Presentata a Rimini Fiera la prima edizione di Packology, la fiera del packaging dei costruttori italiani che si svolgerà da martedì 8 a venerdì 11 giugno 2010. L'esposizione riservata agli operatori del settore avrà una periodicità triennale ed è il frutto della partnership tra l'Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche, Ucima e Rimini Fiera S.P.A. siglato un mese fa. Il quartiere fieristico riminese ha stanziato un budget di promozione di circa un milione di euro per questa nuova manifestazione. Continua questa nostra tradizione che è quella di realizzare direttamente le manifestazioni o in splendido isolamento nel senso che siamo da soli oppure come sta succedendo piuttosto spesso e come io spero che continui avendo un rapporto di collaborazione e di complicità con le associazioni di categoria. Il packaging, questo nuovo prodotto nasce proprio dal rapporto con Ucima che è l'associazione di categoria dei produttori nazionali nel settore delle macchine per l'imballaggio. E questa è la forza da cui partiamo nel realizzare questo nuovo progetto.